Noi è da mercoledì che ci stiamo dando dentro per questo evento che per noi è la festa che facciamo per la città di Fano, quindi per tornare a casa vi invitiamo a venire a casa dei malateste e a respirare l'aria medievale. Questa sera partiamo con la gara degli arcieri che già dà dei punti per la giudicazione del palio delle contrade, poi proseguiamo con il nostro spettacolo degli sputafuoco e delle fiamme danzanti che sono ragazze che ballano col fuoco, che si chiama Le Noti di Valpurga, è uno spettacolo inedito che portiamo giustamente per la prima volta qui e poi proseguiamo con la festa con gli Arabun di musici, che è un gruppo di musici che faranno festa con noi e ci faranno ballare a ritmo delle loro pive e della loro musica, quindi è tutto pronto, tutto pronto stiamo allestendo gli ultimi parecchi ritocchi, però siamo pronti per darvi da mangiare dal pomeriggio quindi chi ci sta guardando che ancora non ha cenato può venire a vederci e vi aspettiamo qui nel Medioevo vi invito perché è il Medioevo di Fanno e quindi è il Medioevo della nostra città sarà un fine settimana denso di attività sabato presenteremo sempre il nostro spettacolo dei sbagliatori che hanno preparato uno spettacolo per questa occasione ci saranno tanti giochi, delle varie contrade che iniziano a sfidarsi ci sarà sabato il matrimonio di Pandolfo davanti al Sagrato quindi sarà domenica la giostra l'anello al campo da rugby per poi proseguire qui alla Rocca con tutti i festeggiamenti a sostenizione del palio e respirare l'aria del Medioevo